buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video come avete potuto vedere da quella breve espressione che vi ho messo prima siamo arrivati a Shatrat quindi a Terrorac Forest Ter-Terrocar no Terrorac mi sbaglio sempre penso da quando ho iniziato a giocare a Warcraft che lo chiamo Terrorac e invece è Terrocar anzi è Terrocar con due K come abbiamo detto l'altra volta adesso ci andiamo a girare un bel BG sperando che non ci capiti si in BG un instance ah cazzo ho girato i tag eh no non posso girare i tag perché mi sa che ormai ma affanculo ci prendiamo lo stesso quasi che a questo punto cambierai spec ma direttamente anche perché tanto il Blood è comunque forte anche per quest'area tutto sta a trovare l'Inkeeper qua e poi andare nel mio Death Gate e tornare nella base principale del DK allora quello che mi ricordo bisogna scegliere praticamente una fazione se l'Haldor oppure gli Scryers andando praticamente qua su oh ci ho pure chiamato fanculo vabbè ora direi che faremo questa instance con questa spec allora Linky per Linky per se non sbaglio stava là dentro vediamo se mi ricordo bene anzi no diciamo che se questi due IPS non accettano ok allora facciamo così levo la coda vado a cambiare spec e ci vediamo dopo ok ragazzi temo ad aver fatto un mega fail perché oddio adesso mi ha preso un dubbo spaventoso sul fatto della doppia spec ma esiste la doppia spec? cioè esiste ancora? perché sennò io posso semplicemente fare così e attivare il Blood oh mio Dio oh mio Dio tutte le spell vabbè ci vediamo tra poco ok sicuramente i talenti li ho messi a cazzo però tanto per i livelli bassi conta poco tanto i mobi vengono mai shottati ok siamo tornati a Shattrath adesso possiamo joinare tranquillamente e intanto andiamo a Terrorcar Forest qua in modo che intanto che aspettiamo la coda possiamo anche oh merda non ho piato il coso volante nel frattempo abbandono anche tutte le quest di Zangar ma rischettando la non ci andiamo più questa è importante cazzo se abbandonavo quella mi spaccavo la testa allora visto che per andare a prendere il riding devo andare a Storming adesso non ho voglia visto che ho lo Storm in CD ci valdrò un po' dai con questa cazzo di stanza quanto ci vuole Shattrath a me è una città che mi ha sempre affascinato cioè forse una delle città più belle cioè la parte centrale quella là è veramente qualcosa di atomico forse perché era proprio il centro di quando ho iniziato io a giocare che ho iniziato a giocare a Burning Crusade questo era proprio il centro cioè era un delirio Shattrath quale fuori c'è 800 a duellare adesso ovviamente non c'è mai un cazzo di nessuno perché è ovvio chi ci viene qui cioè in greve prima ci sono andato in un quarto di secondo adesso niente sta aspettando 20 anni noi non curanti al pericolo passiamo qui in mezzo a questo villaggio di stronzi brutti per dirigerci a piedi verso quel punto interrogativo non mi smontare non mi smontare grazie presumo sia là dentro questo sottospeggio di roccaforte dell'Ally ci manca un healer ovviamente quando mai non manca l'healer non manca il tank ah zero quest insomma mi dicono ah gli wanted sono i miei preferiti perché tanto sono un mob da ammazzare che noi sciottiamo prendiamo il volo qua perché non si sa mai metti caso non so ci muore il grifone in qualche modo dobbiamo arrivarci qua ah ce ne sono altre tre là dentro prendiamo pure queste però io teoricamente in questo episodio non volevo questare volevo fare una cazzo distance a posto finito? no manca ancora un'altra ma quante cazzo l'ho prese? mamma mia what? oh cazzo finalmente ce l'abbiamo fatta vabbè noi intanto invece che starci girare i pollici iniziamo ad ammazzare tutto e tutti qui perché tanto già me ne immagino che devo ammazzare qualsiasi cosa davanti con tutte queste quest tranne questi lupi che incredibilmente non sono tra i miei quest item oppure devo ammazzarli per qualche motivo incredibile ah là si però no nemmeno questi però devo raccogliere questi cazzetti per terra non mi rompere non mi rompere eh l'ho disciotto affanculo mi sono sparato vabbè ah vedi il bone shield prima era uno spell che veniva attivato quando volevi invece adesso si attiva grazie a questo marrow marrow rend perdonate la pronuncia ma io proprio non l'ho mai usato queste spell vabbè vi lascio con il mio solito montaggio video audio musichetta mentre questo perché tanto lo sapete che le queste sono relativamente noi osse ci vediamo però all'istance ok non ci hanno lasciato modo di fare niente perché ho ammazzato altri due mob e mi hanno chiamato fortunatamente oh e cazzo ma te pareva te pareva che ho detto speriamo che becco un'istance nuova addio cristo sono andato a finire e rapparselo ci mi rifiuto mi rifiuto di crederci mi rifiuto di cazzo crederci cioè non c'ho nessuna cazzo di parola dai vaffanculo io volevo portarvi qualcosa di nuovo e niente dio cristo niente vabbè dai sarà per la prossima la prossima volta sai che facciamo la prossima volta nel prossimo episodio che non so quando uscirà mi choino proprio specificatamente delle instance nuove cioè nuove tra virgolette sto perdendo aggro ok ah questa cube praticamente mette un disease a tutti e fa danno ecco comunque tankare è una cazzata perché ecco spammate blood boil fate away finita lì la storia questa non me la faccio vedere tutta ve la accelero perché tanto cioè a questo punto preferisco fare un instance più rapida cioè questa e portarvi un'altra parte di questing perché riportarvi un'altra volta quest'instance io non volevo sapete che non volevo mi stavo giusto chiedendo chi fosse il primo in danni ma raga come potete vedere ve l'ho fatta proprio brevissima anche perché cioè se si è visto qualche pull gigante l'ho fatto con semi di gigante perché questa instance fa l'attuato proprio il cazzetto meanwhile io vado avanti tranquillamente non curante del fatto che i miei compagni non mi si stavano cagando di pezza bene facciamoci sto finto boss sparandoci l'unico gd che possediamo comunque è incredibile il fatto che io sia sempre primo in dps o danni cioè è proprio scandaloso il dk o i tank in generale credo a questo punto perché credo sono proprio i tank perché io mi ricordo anche quando andavo con war cioè faccio certi danni incredibili non per niente infatti adesso ci sono in pvp il war tank o la gente che si build a tank perché cioè all'epoca il tank era veramente ridicolo per i danni cioè schifo al cazzo e oggettivamente deve essere anche così cioè perché cazzo tu sei immortale sciotti sei una cosa op certo non farai mai i danni veri di un dps però cazzo fa troppi danni per essere un tank che palle mi salmano sempre vabbè dai è finita gg qua vieni su da dove arrivi qua ok dai oh gg vaffanculo diamoci a un sanissimo questing rapido adesso ne facciamo un paio poi nel prossimo ci penso io comunque io sul mio canale caricherò praticamente solo i gameplay e poco di più riguardo warcraft il resto qualcosa qualche video magari più particolare lo farò lo farò sempre su tormenta quindi ricordatevi mi raccomando di seguirlo allora una l'abbiamo finita vaffanculo i lupi dovevo ammazzarli anche se non me lo segnalava tu non rompere il cazzo andiamo verso qua giù vedi non me lo segnala là in basso a destra maledetti però io sono sicuro che devo prendere le code ma infatti bastardelli vabbè ammazziamo un po' i lupi va oh attenzione abbiamo anche livellato facilissimo se si andrà e quindi abbiamo un'altra possibilità di beccare un'istanza nuova ma questo non c'è problema perché la prossima volta faccio così guardate invece di andare su random ma su specific specific le seleziono tutte tranne il file ramparts vediamo cazzo guardate che incrocio di queste sulle guardate che incrocio di queste sulle mappe dio mio allora facciamo un bel pulletto qua uno due tre qua qua tutti qua vediamo se riesco a sopravvivere a questa cosa teoricamente dovrei la spacco tutto anzi c'è scopore full vita ti leva il brivido di quest'are guarda qui pure penso che ci metto un secondo a ammazzarli tutti questi qua qua tutti qua boys ok ragazzi per questo episodio praticamente lo concludiamo qua nel prossimo finiremo anche un altro paio di quest e faremo anche un instance però come dicevo un instance a moto quindi io vi ringrazio tantissimo per la utilizzazione ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti